Mi pagano una fortuna per tenere in gabbia Sheila il canguro. Questa combina guai deve aver causato un sacco di problemi alla povera maga. Sì, però mi pagassi un piccolo contributo potrei involontariamente lasciarla fuggire. Beh, non ti preoccupare Spiro. Sheila non sarà in prigione per sempre. La maga dovrebbe farla giustiziare giovedì prossimo.